buonasera a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale beh si è appena conclusa la partita al betegodi di verona e pisa ha perso per due reti a zero ecco io ho messo subito la formazione allora un 352 352 da day cosa ha detto tra dei ha detto che la scuola formazione la messa bene in campo insomma ragazzi stavano bene a posto così va bene probabilmente io ho visto un'altra partita io ho visto la formazione secondo me 352 non era non era da ammettere sicuramente nella schierare da mettere in campo io avrei messo dentro un quarto 312 sicuramente ma non 352 va bene però ripeto io sono io quindi canotto praticamente faceva quello che voleva meno male che la formazione stava bene in campo tempi su gol primi due minuti due minuti tre minuti perché canotto si è andato per conto suo canotto si è andato per conto suo fallaccio golis manaccia e quindi garitano in sac questo è quanto e poi e poi nell'andare nello scorrere la partita praticamente canotto da da rivedere ha fatto quello che ha voluto quindi nel primo tempo canotto ha fatto quello che ha voluto che poi di snow ma pisano bilindelli non c'erano i pisano e bilindelli perché canotto era incontenibile poi ho sentito dire no ma perché campo era pesante ragazzi il campo era pesante per il pisa ed era pesante per il chievo perché fondamentalmente sostanzialmente gioca tutti è lo stesso campo o mi sbaglio ma magari mi sbaglio non lo so però si gioca tutti nello stesso campo quindi se è pesante per noi è pesante per il chievo quindi secondo me non è non è una scusante questa assolutamente non è una scusante la scusante che non lo so marconi spento si è fatto fatto un tiro non ha inquadrato specchio alla porta uno poi che dire marsura niente scendiamo poi parte che di oggi vici cioè voglio dire gori ci ha tenuto a galla e cioè nel senso con le gori ha tenuto diciamo così a galleggio il pisa perché siamo scesi e spogliato di solo 1 a 0 ma andiamo a vedere di oggi sbaglia clamorosamente o meglio gori che sbaglia gori che insomma riesce a pararla e poi insomma un altro sono su un altro tiro insomma fondamentalmente cioè è stata ringraziamo se può ringraziare gori se il primo tempo è finito sull'uno a zero richievo non è andato oltre vabbè inizia il secondo tempo si aspetta a fare sostituzioni certo si aspetta si arriva praticamente al sessantesimo quando finalmente ci decidiamo a togliere marconi e pisano entra dentro bucchere sibilli ma io direi che la situazione era già fortemente secondo me compromessa perché la squadra non ha trovato poi più quella sì c'è stato qualche movimento chiaramente difesa ha spostato lisi birindelli ma alla fine non siamo riusciti siamo così attuale la quadra della partita no perché poi entra dentro anche beghetto e palombi per lisi e siega ma non non è servito perché si abbiamo abbiamo giocato abbiamo dovuto il centrocampo chiaramente chievo è andato insomma insomma si è un po arretrato e quindi cosa faceva non facevo altro che sfruttare la velocità quindi il contropiede ed è riuscito perché al settantesimo cari de luca insieme in sacca e quindi chiude definitivamente la partita non c'era più scampo per far altro per il pisa lottato il pisa per carità ad avanti diciamo ha fatto diciamo quello che ha potuto ma non è stato sufficiente marsura è stato tolto all'ottantoduesimo ma stilo che non è assuramente in condizione è entrato da poco insomma stato male non era non era sicuramente in condizioni di poter fare una partita brillante a con sono quindi se sostanzialmente e fondamentalmente noi non abbiamo non siamo riusciti a fare un tiro non siamo riusciti a fare un tiro in porta andate a vedere dribbling insomma arrivò in fondo per devi palla perché volevi scatta uno e scatta il box cioè non alla fine cioè se non tiri in porta è inutile cioè è inutile sì in qualcosa google ha fatto l'assist per sibili che poi ha preso il pal ma era già complicato sarebbe stato complicato perché la palla insomma metterla dentro era veramente veramente difficile da quella poi da quella posizione da quell'angolazione quindi sempre sempre praticamente non ha non ha fatto una parata una forse a 90 minuti cioè se andiamo a vedere il tabellino vediamo vede il tabellino dieci tiri per il chievo 9 per noi ma tutti fondamentalmente fuori misura fuori misura cioè non non abbiamo centrato lo specchio della porta e questo è il discorso e i tiri in porta sono stati 5 per il chievo 1 per noi da avere il tabellino io non ve lo mettono per carità di dio perché questa è la situazione ci siamo giocati i playoff ma alla fine a me non interessavano non sono mai interessati a me prof voi lo sapete se va beh ma se venivo se venivano ben ben c'è nel senso per quello che mi interessa è la salvezza ragazzi ci vogliono ancora quattro punti per la salvezza piena senza avere problemi perché andiamo se andiamo a dare c'è voglia di se andiamo a dare un'occhiata alla classifica andiamo a dare un'occhiata che siamo fermi a 40 su cinque partite 4 le persone la rinta comincia diventa pesante è veramente pesante sì è vero con lecce ci meritavamo sicuramente un pareggio sicuramente senza togliere nulla a nessuno la realtà è questa un pareggio secondo me era una cosa sarebbe stata una cosa giusta e equa ma così non è stato col pescara e purtroppo è perso col pescara e magari anche lì magari usciva a fare un pareggio non due punti insomma avevi mosso un po classifica per il discorso salvezza andava bene e ora sembri speriamo di non fare la stessa fine del perugia l'anno scorso è speriamo perché c'è voglia di si fa pressa ancora non siamo salvi e stiamo scendendo sempre di più ora voglio dire siamo dunque siamo vediamo un po 34 46 c'è sei punti da play out c'è sei punti da play out allora la prossima è col cosenza voglio dire è una partita dura una partita tosta perché cosenza verrà qua col coltello tra i denti noi cosenza la bestia nella nostra sapete no voglio dire e poi avremo il frosinone frosinone e poi avremo il venezia casa e poi ci sarà recupero del pordenone e poi finita è non è che non so c'è boh io non so veramente oggi io speravo in un pareggio speriamo in un pareggio ma speriamo a pareggiare un punto insomma si va su ma 41 si muove la classifica invece niente niente scusanti da vedere a sentire le dichiarazioni da den no 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 la squadra non stava bene così la squadra a tre ciclo secondo me no si è dimostrato sul campo che no perché quando visto la formazione ho detto no io non capisco poi magari uno dice per l'amor di dio ma c'è ragazzi qui ora bisogna stare attenti cioè non è al momento di fare sti sbarioni cioè secondo me nel momento di farsi sbarioni speriamo di non arrivare all'ultima partita con l'entera cioè con l'acqua alla gola io mi auguro solo quello non si riesce non si riesce più a insomma io non dico a vincere perché per l'amor di ma anche un pareggio un po di pareggio io l'ho sempre detto vabbè quattro partite quattro pareggi 44 a posto ma si riesce a fare più nemmeno quelli il fatto che perdono non lo so non lo so c'è qualcosa forse qualcosa non va non riesco a capire c'è una catastrofe greca da dopo la spalla e qui dice no ma perché la colpa che ci siamo fermati non ci dovevamo fermare ma ci siamo fermati non ci dovevamo fermare e ho capito però c'è voglio dire ma neanche una c'è un calo così impressionante che io ho sempre detto la squadra non trova continuità è quello il problema di questa squadra non si riesce a trovare continuità che dobbiamo fa è così difesa oggi non ci siamo vabbè io bravo bravo caraccio insomma ma non lo so bravo gori veramente ma il resto che sibilli si è entrato insomma fatto vedere qualcosa ma non lo so non li vedo ma si è fatto sul lato conclusivo si lascia a desiderare non si scelta la porta non si tira se arrivano a tre quarti non si sa cosa dobbiamo fa col pallone quando si arriva a tre quarti quello il problema quando si arriva a tre quarti non si riesce cioè non si capisce più niente va beh così va bene ragazzi io basta per questo video la finirei qua se vi è piaciuto pollice su iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima grazie a tutti